È una manifestazione ufficiale nella quale il Tincani si presenta al pubblico e con la prolusione del professor Gianfranco Morra dà anche il taglio ai corsi dell'anno. Il Tincani, come ormai è noto, dato che è la prima università sorta nella regione, la seconda in tutta Italia, ha una serie di corsi dedicati alle materie, alle argomenti più diversi, dalle lettere all'arte, alle attività, chiamiamole così, curricolari, di carattere attivo, partecipativo, pittura, eccetera. 60 anni sono trascorsi e siamo in grado di dare un giudizio oggettivo, spassionato, su quello che è stato il Concilio e anche su quello che è stato il postconcilio. Il Concilio era una necessità, per fortuna si è svolto, ha avuto tanti effetti positivi e purtroppo anche qualche effetto meno positivo. Per capire cosa è stato bisogna mettere da parte gli errori di chi tradizionalista pensa che non si debba cambiare niente e di chi modernista pensa che si debba sconvolgere tutto. Non è così. Il Concilio Vaticano II è stato il ventunesimo dopo venti, i quali sono il suo fondamento, il suo presupposto, di cui esso è la continuazione.